Dopo due amoretti e poi va via, è come un'avventura di palestra. A me era successo in Sicilia, queste qua, loro hanno detto che sono piccoline, dopo qualche giorno è successo a Luglia, infatti è quella che mi ha detto brucia, 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 brucia e mi ha capito subito che ero quella roba lì. A me è successo in Sicilia, non riuscivo più a mettere giù, vedete perché mi aveva pizzicato il mezzo qua, e poi avevo l'affare della mia vita, mi ha messo giù, mi ha messo l'affare di un fiato e non riuscivo a caminare, io non riuscivo a uscire dal mare, e anche l'acqua, l'acqua grossa, e padre da me Marco lo capiva, ma lui diceva, Marco vieni aiutami, aiutami.